1665 circa, una data, laia, un luogo, una ragazza con un orecchino, il mistero della bellezza. Passi veloci, che si alternano spingendosi l'uno con l'altro, brevi, ritmati, si rincorrono senza fine. Un uomo anziano, si muove rapido come un diciottenne, si spingono le vie più larghe, si intrufola nelle stradine più buie, poi ricomparne le piazze, ampie, abbagliate le luci. Un vestito del color del cobalto, un vestito che una volta deve essere stato elegante, adesso è ruvido e strappato dal tempo. Le scarpe scuoiate in più punti, le suole quasi trasparenti che battono l'asfalto. Quanti anni sono che cammina rapido, entusiasta della sua ricerca. Tutto è iniziato il giorno in cui, da ragazzo, è entrato nelle Maurizio Stellaia e ha visto esposto il quadro di lei, la ragazza con l'orecchino di perla, il piccolo quadro che ritrae il mistero della bellezza. È successo qualcosa, la rottura del piano della realtà. Lei esiste e devo trovarla. Il giovane ha incominciato a camminare e camminando è diventato un uomo e camminando è diventato deve trovarla. Passa una donna. L'hai vista? Le chiede mostrando la fotografia della ragazza con l'orecchino di perla. Passa un uomo. L'hai vista? Passano dei ragazzi divertiti, in gruppo. L'avete vista? No, nessuno l'ha mai vista. Nessuno può averla vista perché lei non esiste. È un dipinto, lo sanno tutti. Ma per questo vecchio non è così. Lei esiste in qualche luogo, in qualche tempo. Lei esiste. Guarda ancora la fotografia che nel tempo è diventata morbida come un fazzoletto di seta. Il ritratto di una ragazza con un grande orecchino di perla. Una figura brillante su un sfondo scuro che la proietta nel nostro spazio di spettatori e ci invita a entrare in relazione con lei. In questo sfondo scuro non c'è nessuna traccia, nessun riferimento a un luogo, a uno spazio specifico e questo contribuisce al mistero dell'opera. Lei ci guarda ruotando leggermente la testa al di sopra della spalla sinistra, creando un'attrazione che è alimentata anche dalla presenza di alcuni punti di luce chiari, evidenti. La luce sugli occhi, resi in modo che sembrino leggermente inumiditi, danno un effetto di presenza reale. La luce sulle labbra, leggermente socchiuse, che sembrano umide, bagnate. Sul labbro inferiore, leggeri colpi di rosa, rivelano l'umido sull'angolo sinistro della bocca come se avesse appena finito di dire qualcosa. Il naso ha una luce più sfumata, non è definito nella sua linea, ma si dissolve nella parte alta sulla destra del fisio. Le ciglia sono state dipinte così delicatamente che sono quasi impercettibili a occhio nudo. La fascia di colore blu di lapislazzuli aumenta il fascino. Chi è questa ragazza? Non si sa, nessuno può saperlo. La fascia messa alla turca non appartiene all'abbigliamento delle donne olandesi di quel periodo e contribuisce a rendere impossibile portare la ragazza in un tempo specifico. Nessuna donna in quella parte d'Europa indossava il turbante e forse per questo lei non è stata una persona reale, ma piuttosto una figura immaginaria nella mente dell'artista. E la perla, la perla così luminosa da catturare lo sguardo, la perla che era simbolo di virtù e fedeltà, forse voleva far pensare a una ragazza virtuosa, fedele. Allo stesso tempo la perla è più grande di una perla naturale. Forse era finta, ma, vera o falsa, quando la si guarda sembra che tutto ruoti intorno al suo riflesso. La pittura è disposta a strati sovrapposti e sottili, così da giocare con le trasparenze mischiando insieme i bianchi sopra i blu o sopra i gialli, creando rapporti tra i colori molto diversi. L'artista usa i colori primari, il giallo, il blu, un tocco di rosso sulle labbra, riuscendo a miscelarli in modo da creare rapporti armoniosi. I rossi sono ricavati da insetti presenti nei cactus in Messico e in Sud America e il preziosissimo blu di Lapislazli viene dall'Afghanistan. armonia, attrazione, mistero di uno sguardo, mistero di un riflesso. Un giovane che guarda, un uomo che guarda, un vecchio che guarda, guarda l'immagine di lei che stringe in mano, che mostra a tutti i passanti ponendo sempre la stessa domanda. L'hai vista? L'hai vista? Una domanda senza risposta. Eppure l'essere umano avanza con passi veloci, consumandosi nel tempo, perché è così. Quando si intuisce la bellezza non si può più smettere di cercarla.